E-News è presentato da Cabocla, ristorante brasiliano. Buon inizio settimana da E-News, web TG della città di Fano. Attività di prevenzione della polizia stradale contro le stragi del sabato sera. Quattro patenti ritirate nel weekend in zona Lido. Guidava con un tasso alcolico di 2,50, rischiando la sua vita e mettendo in pericolo quella degli altri. Protagonista un rumeno fermato in zona Lido sabato sera dagli uomini della polizia stradale di Fano, che durante la consueta attività di prevenzione contro le stragi del sabato sera lo hanno fermato e controllato. L'uomo che andrà incontro a provvedimenti penali non rivedrà la sua patente per almeno un anno e dovrà pagare una multa di svariate migliaia di euro, mentre il mezzo non gli verrà confiscato solo perché intestato ad un'altra persona. Un weekend impegnativo per gli agenti della stradale, che sempre nella stessa sera e zona hanno ritirato altre tre patenti per guida in stato di ebrezza. Luca Stefanelli lascia il PD. Anche a Fano le larghe intese? Una Fana che preannuncia il terremoto. Nel PD c'è il rischio di una crisi dopo l'annuncio di Luca Stefanelli di uscire dal partito. Alla base della scelta del consigliere comunale di Ponte Sasso, ci sarebbe la decisione di Massimo Seri di non sottoporsi alle primarie, anche se il malessere parte da lontano, viste le ultime affezioni con il segretario Stefano Marcheggiani. A questo punto però, secondo molti, l'uscita di Stefanelli potrebbe avviare una diaspora generale nel partito di Via Puccini, con personaggi, anche importanti, pronti a seguire l'esempio di Stefanelli. Che le larghe intese arrivino anche a Fano? Adero Micioli si candida con il punto interrogativo di Fernanda Marotti Qualcuno dice che ad oggi il Movimento 5 Stelle andrà al ballottaggio col centro-destra e il PD quindi non riusciva nemmeno ad arrivare? Se noi ci siamo in gioco è proprio per questo motivo qua, andare al ballottaggio, poi che di là ci sia o il centro-destra o il centro-sinistra cambia poco. Noi ci crediamo, abbiamo fatto questa alleanza intanto con Bene Comune, inizieremo un tour per andare in giro nella città fino addirittura ad aprile, prima delle elezioni. Fernanda Marotti rientra nel vostro progetto oppure no? Fernanda Marotti sta penso portando avanti un suo progetto, noi siamo rispettosi del suo percorso e vediamo che cosa ne verrà fuori, chiedete a lei sicuramente che cosa avrà intenzione di fare. Diamo un po' uno sguardo ai colleghi del centro-sinistra, come vede la coalizione, il discorso delle primarie, queste liti interne? Questo tra virgolette gioca a nostro favore, mentre proprio gli altri stanno litigando sui nomi, sui personalismi, noi stiamo lavorando appunto sul programma, dalle altre parti vediamo sia nel centro-destra che nel centro-sinistra una gran confusione. Si sta parlando molto di ospedale unico, voi siete contrari, però meglio Chiaruccia, meglio Moraglia. La terza soluzione che non hai detto è mantenere sicuramente le strutture che abbiamo per ristrutturare, riorganizzare quello che si ha, sia a Fano che a Pesolo, secondo noi la via migliore. Scelti gli otto concorrenti che parteciperanno alla fase finale di Chef in the City Si erano iscritti in 17 ed ora sono rimasti in 8 a contendersi il titolo di Chef in the City 2013. La preselezione di sabato pomeriggio al ristorante Il Galeone è servita per dare il primo verdetto e per dimostrare che il livello degli chef amatoriali in gara è degno di un ristorante di livello. Scegliere gli otto finalisti non è stato facile, perché i concorrenti si sono mostrati all'altezza della situazione, sfornando riduzioni con birre artigianali, cotture courboillon, carne caramellate e salsa di ogni genere. Un vero e proprio tripuglio di sapori che ha attirato anche un pubblico di curiosi. Alla fine ad accedere alla fase finale sono stati Romina Bucchi, Renato Bardeggia, Luigi Orsini, Eugenio Mattini, Cristiana Francolini, Antonino Palella, Chiara Tonucci e Simone Giovanelli. Ora gli otto chef rimasti in gara sono attesi dai quarti di finale in programma il 12 e 13 novembre. Per il momento è tutto, i news torna oggi pomeriggio alle 18.30. Buona giornata! I news è stato presentato da Cabocla, ristorante brasiliano.